Il presidente facente funzioni della regione Calabria, Nino Spirli, chiede al governo l'azzeramento del debito sanitario della Calabria. Dopo aver avanzato la stessa istanza ai vari rappresentanti dell'esecutivo incontrati in questi giorni a Roma, Spirli scriverà al premier Mario Draghi per chiedere un incontro specifico sulla questione. Ho avanzato, afferma Spirli, la richiesta anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver interessato anche molti altri rappresentanti del governo, tra cui il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, i ministri dell'interno degli affari regionali, Luciana Lamorgese e Maria Stella Gelmini, i sottosegretari Dalila Nesci, Francesco Sasso, Claudio Durigon e Nicola Molteni. Della questione ho investito anche il segretario federale della Lega, Matteo Salvini. A tutti, spiega Spirli, ho chiesto l'azzeramento dei debiti dell'ASP di Reggio Calabria e di una parte di quelli dell'intero comparto sanitario regionale. È questa l'unica condizione per poter avviare una nuova politica sanitaria in Calabria. Senza questo atto non serviranno a nulla nemmeno altri 100 commissari ad acta. Di tutto questo voglio parlare anche con il presidente del Consiglio Draghi, al quale scriverò per chiedere un incontro il prima possibile.